Nel pomeriggio di sabato da Cerno, località Bardiglia, un operaio 47enne impegnato nel taglio autorizzato della boscaglia ha perso la vita per le ferite riportate alla testa a seguito della caduta in un fossato. Non si esclude che l'uomo possa essere stato colpito accidentalmente da un tronco d'albero appena tagliato. Sono ancora in corso le indagini da parte dei militari della locale stazione dei Carabinieri al fine di ricostruire dettagliatamente l'evento. Grazie a tutti.